Carlo Conti è l'uomo indicato più papabile alla conduzione della prossima edizione del festival di Sanremo dopo il quinquennio firmato Amadeus. Per questo motivo è stato contattato dalla presse per avere un commento a caldo sul passaggio a 9 del collega. Perdo un grande compagno di squadra ti auguro il meglio, ha scritto su Instagram, aggiungendo poi alla presse, è un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile, e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui. Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte, il dispiacere potrebbe però trasformarsi in opportunità, dato che con Amadeus fuori dai piedi ha già la strada spianata per Sanremo. Accetterà l'eventuale incarico? Carlo Conti a Sanremo 2025? Le sue ultime parole? Di Sanremo ne ho fatti tre uno più divertente dell'altro. Se ne fari un altro? Staremo a vedere. Chi vuole essere lieto? Sia, di Domain non c'è certezza, come disse un mio illustre concittadino. Io dico mai dire mai come qualsiasi altro programma, sia chiaro. Non ripristinerei la gara ad eliminazione a Sanremo. È una delle cose più giuste fatte da Amadeus. È una gara ed è giusto che arrivino tutti fino alla fine. La tensione dell'eliminazione non è più l'elemento più importante del festival.